Ok, ciao a tutti. Questo è il Remodulator. Volevo solo postarti un aggiornamento su cosa è successo alla mia città in EN5, Isnagach. Cinque giorni fa avevo abbandonato la mia città in Isnagach perché qualcuno mi aveva avvertito che avevo fatto qualcosa che presumibilmente aveva lo scopo di garantire che la mia città avesse ancora qualcosa con cui contribuire alla mia ormai ex-guilda. Ho lasciato qualcuno a gestire la mia città mentre ero via solo perché qualcuno in tutto il mondo mi avvertisse che ero nei guai. Pensavo che avrei dovuto abbandonare quella città Remodulator nell'EN5, Isnagach, e per un po' l'ho fatto. Ma ieri con mio amico su Facebook, che era anche mio amico nel gioco, abbiamo fatto una città chierata, 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 continuava a invitarmi nella sua guilda e tutto il resto. La sua guilda, che era la migliore, migliore, l'ultima volta che ho controllato, è ancora la migliore. Mi ha anche detto qualcosa che, anche se in privato, mi ha spezzato in cuore. Ero risposto a dare una possibilità alla sua guilda fino a quando cerca poche ore dopo. Dopo, quando sono andato a un apportamento, ho avuto un improvviso ripensamento perché la mia coscienza aveva avuto l'ameglio, giudicendo che stavo facendo qualcosa di sbagliato e che stavo iniziando a rientrare nel mondo più politico del gioco. Da qui avevo giurato di tenermi alla larga, in quella guilda, a cui mi sono unito pochi giorni. Scusami, scusi, dopo aver finalmente realizzato che non ero nei guai, e il stato era la cosiddetta sedazione l'impero del male, senza virgolette. L'anno scorso facevo parte di una di quelle guilde politiche e sono sempre stato associato a quella guilda. e dopo essere stato licenziato ho fatto un giuramento personale di non tornare alla politica del server e di concentrarmi sulle guild battlegrounds di cui piaceva essere un capitano sul campo di battaglia. Ora, cosa è successo? Io ho lasciato la nuova mia guilda a cui mi ero unito. La guilda è di alto livello e ho deciso, invece di eliminare la mia città, fa male perché ho passato tre anni a costruire quella città e ho anche spesso dei soldi. Ma poi, il dato che è guilda contro guilda, e non sto parlando solo di competizione tra guilda e guilda, la rivalità politica in EN5 è molto folle ed è mi ha consumato così, tanto che non avevo idea di chi stavo diventando e ho visto i miei recenti problemi di salute e di personale, anche se lo spiegherò un altro giorno, penso che potrebbe essere la decisione migliore. Ci saranno ancora contenuti, ci saranno ancora contenuti di Forge of Empires? Sì, sì, una città non politica ed è nella selva beta ed è l'Uscanon. Tratterò quello che posso, in particolare i nuovi eventi e nuove età. Di ora in poi userò ancora il nome Remodulator in tutti i miei video, in tutti i miei video non Forge of Empires, ma il vecchio è stato scatenato Remodulator in EN5 e non sarà più disponibile. Ho mantenuto in atta le altre città, in altri mondi nell'account di Remodulator, in modo che nessuno possa risuscitare le identità Remodulator su EN5. Questo è tutto il aggiornamento che posso ponere per il futuro. Buona mattina.